Buongiorno, Presidente Meloni, ben tornata in Calabria e benvenuta nel porto di Gioia Tauro. Ho chiesto che la firma di questo importante accordo di coesione potesse essere raccolta qui, all'interno del porto di Gioia Tauro, perché ho ritenuto fosse simbolicamente importante che la Calabria si presentasse di fronte al Governo nazionale, di fronte al Presidente del Consiglio, al Ministro Fitto, agli altri rappresentanti del Governo presenti, in un posto che è simbolicamente rilevante, perché è il luogo dove la Calabria può rappresentarsi come una regione che ha un primato nazionale. Perché il porto di Gioia Tauro, caro Presidente, è il primo porto d'Italia, è un porto tra i più importanti del Mediterraneo, è un porto che ha un'enorme area retroportuale, una delle più vaste d'Europa, che potrebbe attrarre investimenti importanti e fare di questa regione un hub del Paese verso il Mediterraneo, fare di questa regione l'hub del Paese nel contesto del piano Mattei nel Mediterraneo. Mi piaceva l'idea di rappresentare al Governo nazionale una Calabria che non si limita a rivendicare attenzione, una Calabria che è cosciente di essere una regione complicata, con tanti problemi, ma di essere una regione che per fortuna ha più risorse che problemi, ha più risorse che in passato non ha saputo sviluppare per creare condizioni di benessere per i propri cittadini, ma è una regione di straordinaria bellezza, una regione che ha un mare incredibile, è una regione tra le più montuose, con boschi bellissimi, con borghi tra i più belli d'Italia, è una regione della Magna Grecia dove la cultura e la storia sono immerse nel mare ed è una regione che ha un hub logistico che è il più importante del Paese, il porto di Gioia Tauro. Ecco, per questo ho chiesto al Ministro Fitto che questo incontro per firmare l'accordo di coesione si potesse svolgere qui, davanti ai sindaci della Calabria, che svolgono un lavoro complicato come il mio, ma che hanno come me coscienza del fatto che questa regione ha le risorse per dimostrare al Paese quanto importante possa essere per l'intero Paese. Certo, ha mille problemi e ringrazio il Governo nazionale per l'investimento che ha fatto negli ultimi anni, non solo questo Governo in verità, ma tutti i governi degli ultimi anni, dotando la Calabria di forze di polizia che hanno svolto in sinergia con le altre istituzioni un lavoro straordinario, voglio ringraziare i livelli apicali e le forze di polizia che sono qui, come la magistratura calabrese che svolge un lavoro importante, non solo in termini di repressione, ma anche in termini di deterrenza. La Calabria ha tanti problemi, a cominciare dall'Andranche, da che fa schifo, ma che non deve diventare un alibi per non sviluppare questa bellissima regione. La Calabria. Presidente, in questi due anni abbiamo cercato di riformarla, questa regione. Abbiamo fatto riforme importanti, abbiamo fatto la riforma dei consorsi di bonifica, avevamo 11 consorsi di bonifica, 11 baracconi, abbiamo fatto un unico consorzio di bonifica. Abbiamo fatto la riforma dei rifiuti, dell'idrico. Vedo molti sindaci, hanno esperienza di quanto difficile fosse in passato smaltire rifiuti. Sai, Presidente, i rifiuti in Calabria si mandavano fuori dalla Calabria, a 340 euro a tonnellate, in Danimarca, in Norvegia. Da giugno noi non spediamo più rifiuti all'estero, smaltiamo tutti i rifiuti in discariche calabresi, in discariche pubbliche, non private. Nell'accordo di coesione abbiamo previsto stanziamenti importanti per l'ambiente, 170 milioni di euro per il termovalorizzatore di Gioia Tauro, che attiveranno investimenti ulteriori per altri 400 milioni da parte dei privati, perché il nostro obiettivo è quello di ridurre il conferimento dei rifiuti anche nelle discariche pubbliche. Abbiamo destinato risorse importanti al sistema della depurazione, dell'idrico, anche lì abbiamo trovato una società che si occupava della grande adduzione, che era di fatto in fallimento, l'abbiamo posta fuori dalla liquidazione, e abbiamo individuato in questa società il soggetto gestore del ciclo integrato delle acque, e nell'accordo di coesione che oggi firmiamo, importanti risorse saranno destinate alla depurazione e ad affrontare il tema delle infrazioni comunitarie sulla depurazione. Abbiamo destinato nell'accordo di coesione risorse importanti per i sindaci, perché circa 620 milioni saranno investiti in strade, in interventi per la mobilità e i trasporti, a questi poi si aggiungono altri 90 milioni per interventi di rigenerazione urbana. E sono contento che oggi la Calabria sia la prima regione del Sud per importanza delle risorse, per la dimensione delle risorse, perché l'accordo di coesione è un accordo di coesione che vale 2 miliardi e mezzo, a firmare col governo questo patto. Sono contento di questo perché è il frutto di un lavoro intenso, Presidente, che abbiamo fatto in questi mesi, io e il Ministro Fitto, gli uffici della Regione, con gli uffici del Ministero, per arrivare ad un accordo che fosse reciprocamente impegnativo. Io giudico da Presidente di una regione del Sud una fortuna potermi confrontare con un Ministro, che ha fatto il Presidente di una regione del Sud prima di me e che conosce quindi quali sono i problemi, le criticità legate alla spesa dei fondi del Fondo di Sviluppo e Coesione, ma anche legati alla spesa delle risorse del POR. Presidente, quando mi sono insediato io ho trovato 2 miliardi di euro che non erano stati spesi, un miliardo di FSC, un miliardo di risorse derivanti dalla programmazione POR. In due anni abbiamo speso tutto, ma questa circostanza, che è una circostanza che non appartiene solo alla Calabria, appartiene a molte regioni del Sud, dimostra quanto importante fosse mettere mano alla riforma degli strumenti che servono a rendere veloce ed efficace questa spesa. Perché la spesa delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione, così come del POR, non ha mai creato convergenza in questi anni, non ha mai creato un aumento del prodotto interno lordo delle regioni del Sud. Quindi è evidente che qualcosa non funzionava. E io credo, Presidente Meloni, che la riforma più importante che il tuo governo abbia fatto in questo anno sia proprio la riforma di questi strumenti di spesa, delle risorse che servono a determinare sviluppo nelle regioni, e soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno. Molti ritengono che l'obiettivo più importante che sia stato conseguito sia quello di aver ottenuto dall'Europa, grazie all'autorevolezza del Presidente Meloni, all'esperienza del Ministro Fitto, la possibilità di rimodulare il PNRR. Sì, è un grande obiettivo. Ce n'è un altro però nelle pieghe di questo obiettivo, secondo me è ancora più grande. Il governo è riuscito, Presidente Meloni, a inserire tra gli obiettivi della rimodulazione del POR la riforma della politica di coesione. La riforma, cioè, di quegli strumenti che ci devono consentire la spesa delle risorse. Grazie a tutti. Allora, Giorgia, io ho per assistente, la sicurezza l'è impazzita, io ho per assistente una ragazza che faceva la mia assistente quando io ero capogruppo alla Camera. Non è calabrese, è veneta. Faccio un augurio di pronta guarigione perché è stata coinvolta con me in un incidente stradale. Sai, però, lei è veneta e io e la mia assistente condividiamo questo hashtag perché lei è veneta, io le spiego, guarda, in Veneto sì, è complicato governare la regione, però, la Calabria è d'astra costa. E l'hashtag è hashtag che ne sa zaya, nel senso che quando succedono cose come queste e in Calabria ne succedono tante, io le scrivo che ne sa zaya perché la Calabria è una regione molto complicata. però è una regione, Georgia, che può dare molto al Paese. Guarda, io ho voluto che noi ci vedessimo qui perché il tuo governo ha avuto il merito anche di qualificare come opera strategica il rigassificatore di Gioia Tauro. Sai, qui a Gioia Tauro abbiamo tutte le autorizzazioni, imprese private che hanno in pancia questo rigassificatore, hanno tutte le autorizzazioni per fare qui un rigassificatore che produrrebbe più della metà del gas che prima importavamo alla Russia. Perché lo voglio? Lo voglio perché da italiano credo che un'opera del genere sia utile a costruire l'indipendenza economica del nostro Paese dal punto di vista energetico, ma lo voglio da Presidente della Regione Calabria perché connesso al processo di rigassificazione è la costruzione della piastra del freddo. E se noi avessimo qui a Gioia Tauro a ridosso del più grande porto d'Italia, di uno dei più grandi porti del Mediterraneo, con un'area retroportuale tra i più grandi d'Europa, una grande piastra del freddo, qui si potrebbero surgelare tutti i prodotti dell'agroindustria, della Calabria, della Sicilia, della Campania, della Puglia e potrebbe questo porto che oggi è il più grande d'Italia ma che non produce ricchezza per la Calabria perché è un porto solo di transshipment, qui c'è il gateway ferroviario, abbiamo investito insieme ai terminalisti molto sulla intermodalità perché è giusto dare la possibilità a chi spedisce nel porto di poter lavorare qui le merci e farle partire sul via treno. Ecco, se questo porto avesse anche questa infrastruttura potremmo qui allocare grandi imprese in un piano di attrazione degli investimenti per il quale però chiedo anche al governo nazionale di farsi promotore anche presso imprese nazionali che potrebbero allocare qui loro stabilimenti utilizzando questo asset logistico molto importante. Il governo è stato lungimirante perché la proposizione del piano Mattei credo sia il modo migliore di tentare di dare una risposta ad un problema che altrimenti non avrà risposta il problema di arginare i flussi migratori che investono nel nostro paese. Io sono orgoglioso di governare una regione che si è sempre dimostrata molto solidale con quanti scappano dalla fame e dalla guerra e dico in verità che anche io scapperei dalla fame e dalla guerra se avessi a casa mia la fame e la guerra e allora l'idea del piano Mattei è un'idea lungimirante perché il modo migliore per arginare questi flussi è creare in quella parte del mondo occasioni di crescita economica e però se ha le risorse che il governo nazionale ha stanziato per il piano Mattei l'Europa dovesse aggiungere come io mi auguro altre risorse per contrastare questo fenomeno e per creare lì le condizioni di sviluppo noi faremmo della Calabria l'hub dell'Italia e dell'Europa in questo processo di realizzazione di investimenti in quest'altra parte del mondo dove quelle economie cresceranno con un tasso di incremento del PIL significativamente superiore alle economie europee sarò anche un visionario presidente Meloni ma io credo che la Calabria le regioni del sud oggi possano vivere quello che hanno vissuto nei decenni passati le regioni del nord quando si sono avvantaggiate dal fatto di essere più prossime al motore di sviluppo dell'economia che era il manifatturiero tedesco oggi nel nuovo paradigma dell'economia europea il Mediterraneo noi lo abbiamo sotto gli occhi qui a Gioia Tauro sta diventando sempre più importante e se ci saranno risorse che si aggiungeranno a quelle del piano Mattei diventerà ancora più importante e allora quale migliore occasione per il paese se non quella di investire in una regione che può essere una piattaforma verso il Mediterraneo ecco perché ho voluto che l'accordo di coesione si potesse svolgere qui per darti l'evidenza di quanto importante possa essere la Calabria certo la Calabria ha tanti problemi lo dicevamo prima io quando mi sono insediato Giorgio ho detto io sono stato eletto per tentare di affrontare e di risolvere i problemi che la Calabria ha però devo fare il presidente che cerca di valorizzare le risorse che la Calabria ha che per fortuna sono più grandi dei problemi e allora noi ti chiediamo di dare la giusta attenzione a questa regione che in passato non ha mai avuto grande attenzione da parte dei governi nazionali è una regione straordinaria con giovani straordinari qui ci sono anche i rettori delle università noi abbiamo un sistema universitario presidente all'avanguardia abbiamo delle università che sono delle eccellenze una in particolare sta accogliendo anche docenti che da Oxford si dimettono per venire a insegnare nelle nostre università che sono diventate punti di eccellenza europea nell'intelligenza artificiale per esempio quindi siamo coscienti delle risorse e delle possibilità di sviluppo che abbiamo e siamo contenti anche dell'investimento che lo Stato ha fatto nella sicurezza in Calabria voglio spendere un'altra parola su questo perché noi paghiamo un prezzo altissimo per il danno che l'andranca ha fatto al futuro della Calabria negli anni passati eppure io vedo che in Calabria proprio grazie all'abilità delle procure delle forze di polizia c'è un controllo capillare del territorio che è utile a generare repressione ma è utile anche a determinare deterrenza c'è un lavoro molto importante che anche la Regione sta facendo con i Carabinieri la Guardia di Finanza la Direzione Investigativa Antimafia abbiamo messo a disposizione della Direzione Investigativa Antimafia le banche dati della Regione perché possano assistere la Regione gli uffici regionali nelle procedure legate all'acquisto di beni e servizi e alcuni di questi protocolli Presidente Meloni stanno già funzionando per esempio sulla 106 c'è un protocollo di legalità che ha dato la possibilità alle imprese che fanno i lavori in quella parte del territorio calabrese di poter essere assistite in un atteggiamento appunto positivo propositivo anche da altri livelli istituzionali ringrazio anche Vandaferro che vedo qui perché con lei stiamo svolgendo un lavoro molto importante per dare la percezione insieme agli altri livelli istituzionali che in Calabria lo Stato è più forte che in Calabria lo Stato è più forte dell'Andrangheta abbiamo lavorato molto sui beni confiscati all'Andrangheta ne abbiamo abbattuto alcuni grazie all'impegno di tutte le istituzioni e stiamo dimostrando che questa Regione vuole liberarsi da vecchi stereotipi perché è una Regione che non ha complessi nei confronti delle altre Regioni a una classe dirigente fatta da sindaci bravissimi che ora tu vedrai quando parlerai dopo di me che non ha complessi nei confronti delle altre Regioni e dico concludendo che non abbiamo alcun pregiudizio io almeno non ho alcun pregiudizio nei confronti delle riforme di nessuna riforma a condizione però che i cittadini della Calabria come i cittadini di tutto il Mezzogiorno siano messi nella condizione di avere gli stessi diritti sociali e civili che hanno i cittadini delle altre parti d'Italia a condizione che questi diritti trovino finanziamento nel bilancio dello Stato e poi ci confrontiamo a condizione che questa richiesta venga soddisfatta e anche a condizione che ci vengano assegnate le risorse per sviluppare la stessa capacità fiscale sono molto riconoscente al governo Giorgia perché ha assegnato alla Calabria 3 miliardi e mezzo per il rifacimento di una parte della strada statale ionica e altre importanti risorse per alcuni tratti dell'autostrada che qualcuno in passato inaugurò sebbene non fossero rifatti ma non basta non basta perché abbiamo bisogno di un investimento ulteriore in termini infrastrutturali non è colpa di questo governo ma nelle risorse del PNRR non c'è un euro per l'alta velocità in Calabria le uniche risorse del PNRR per l'alta velocità sono utili a concludere il tratto fino a Romagnano al confine della Calabria ci sono le risorse del fondo di complementare e non sono sufficienti solo per un tratto fino a Praia ecco noi non abbiamo complessi nei confronti di nessuno come hai visto questa Calabria che è davanti è una Calabria orgogliosa cosciente delle sue risorse cosciente delle sue capacità ma vuole correre potendolo fare con la stessa velocità delle altre regioni per questo ti chiediamo il sostegno che so che ci darai concludo con un ricordo diciamo autobiografico non vorrei mancare di rispetto al Presidente del Consiglio però io e il Presidente del Consiglio eravamo seduti alla Camera insieme e io facevo le dichiarazioni di voto per conto del mio partito prima di me però faceva le dichiarazioni di voto per conto del suo partito il Presidente del Consiglio era Giorgia per tutti noi e ogni volta che parlava era bravissima pensate a me che dovevo parlare subito dopo cioè nel senso che si è sfigati a parlare dopo uno così bravo uno così bravo beh devo dire che anche quelli che conoscevano le tue capacità conoscevano la tua forza la tua abilità sono stati stupiti anche quelli come me che avevano grande apprezzamento dei tuoi confronti sono stati stupiti dalla capacità dalla forza dall'equilibrio dalla saggezza dalla lungimiranza che sta dimostrando guidando il Paese con autorevolezza anche a livello internazionale ecco noi ti chiediamo di investire questa qualità nello sviluppo della Galabria il Ministro Fitto ha fatto un lavoro straordinario perché ti ha fatto firmare dieci accordi di coesione e al di là delle polemiche vi dico che delle polemiche che qualcuno fa tutti i presidenti che hanno avuto la possibilità di confrontarsi il confitto hanno sempre trovato un interlocutore disponibile che voleva davvero riformare questo strumento per renderlo più efficace ti ha fatto firmare dieci accordi di coesione te l'ha fatto firmare col Veneto appunto con la Lombardia con altre regioni del nord è giusto perché è giusto pensare allo sviluppo ulteriore anche di queste regioni però non dà la stessa soddisfazione cioè nel senso che impegnarsi per lo sviluppo di una regione come la Calabria che è stata descritta sempre come una regione impossibile a svilupparsi è molto più sfidante è un'opera che può appartenere solo a persone forti determinati ambiziose come te grazie 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 Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni a raggiungere il podio e prendere la parola buongiorno a tutti grazie di essere qui io sento l'obbligo di iniziare questo intervento con una brutta vicenda che è avvenuta questa mattina non qui a Firenze dove ci sono degli operai che sono rimasti coinvolti in un incidente che riguardava il cantiere per la costruzione di un supermercato e quindi a nome mio del governo dell'Italia di tutti gli amministratori presenti vorrei esprimere ovviamente il mio cordoglio la mia vicinanza le famiglie delle persone coinvolte ovviamente stiamo seguendo gli sviluppi del caso e preghiamo per le persone ferite e per quelle che ancora non si non si trovano quindi vorrei esprimere il mio cordoglio perché è un'altra vicenda che chiaramente lacera no le nostre coscienze di persone che escono per andare a lavorare che escono semplicemente per fare il loro lavoro e non tornano a casa oggi no quindi penso che dobbiamo mandare un abbraccio un pensiero e ovviamente tutta la nostra attenzione a loro e alle loro famiglie detto questo ovviamente detto questo ovviamente ringrazio il presidente Occhiuto ringrazio il ministro Fitto ringrazio i parlamentari i sindaci tutte le autorità presenti per questa bella mattinata sulla quale abbiamo molto lavorato e voglio dire al presidente Occhiuto che ho condiviso ogni parola del suo intervento fondamentalmente perché ne condivido lo spirito e allora consentitemi di fare mezzo passo indietro sul lavoro che ci ha portato a essere qui questa mattina per la firma di questo accordo di coesione voi sapete che i fondi di sviluppo e coesione sono i fondi principe che servono a combattere il divario tra i territori chiaramente i grandi divari che sono presenti in Italia quello tra nord e sud devo dire anche quello tra est e ovest ma anche i divari che esistono all'interno dei singoli territori sono lo strumento principe che ci consente di investire per far sì che tutti i cittadini di questa nazione abbiano gli stessi diritti e vedete quando noi siamo arrivati al governo ci siamo resi conto che queste risorse che sono insomma risorse importanti per decine di miliardi di euro si organizzano su cicli pluriennali di programmazione che queste risorse e beh in molti casi non si spendevano non si spendevano nella loro totalità o si spendevano con enormi ritardi e avremmo potuto voglio dire andare avanti così però non so se una nazione come la nostra che ha oggettivamente bisogno di risorse può permettersi di non far arrivare sul territorio fino all'ultimo centesimo delle risorse che ha a disposizione e allora il ministro Fitto che voglio ringraziare perché ha fatto un lavoro molto prezioso ha avviato un confronto con tutti i presidenti di tutte le regioni per fare una mappatura diciamo di quello che era lo stato della spesa della precedente programmazione e per avviare il confronto sulla nuova programmazione perché perché chiaramente per noi l'obiettivo è da una parte riuscire a spendere tutte queste risorse dall'altra parte spenderle nel migliore dei modi che significa spenderle all'interno di una strategia allora all'esito di questo confronto che noi abbiamo avviato con tutte le regioni è nato il decreto sud il decreto sud riorganizza i fondi di coesione istituisce questi accordi di coesione che hanno alcune diciamo così particolarità la prima di queste particolarità è che i progetti che vengono finanziati con gli accordi di coesione sono proposti dalla regione e condivisi dal governo nazionale questo è quello che ha fatto un po' arrabbiare qualcuno ma non perché noi si voglia chiaramente limitare diciamo così la l'autonomia del singolo territorio ma perché queste risorse vanno inserite nel complesso di una strategia per troppo tempo noi ci siamo mossi come fossimo delle monadi ci siamo mossi come se ciascuno di noi fosse un territorio a parte ma se non mettiamo in rete il lavoro che una regione fa con l'altra noi non ricostruiremo mai la strategia della quale la nazione nel suo complesso ha bisogno e quindi abbiamo chiesto di inserire anche questi progetti in una strategia generale dopodiché ci siamo mossi anche per stabilire alcuni principi e cioè che ad esempio per le opere che non vengono finanziate che non vengono realizzate si possono definanziare per mettere quelle risorse su opere che possono essere realizzate e che quando ci sono delle lungaggini che non consentono diciamo così di spendere queste risorse nei tempi previsti si possono attivare i poteri sostitutivi cioè un meccanismo di responsabilizzazione per tutti noi ma soprattutto un meccanismo che consente e garantisce che non si disperdano delle risorse che sono estremamente preziose questo lavoro noi lo dobbiamo mettere sempre per una questione di strategia in rapporto con il piano nazionale di ripresa e resilienza perché ci sono diverse fonti di finanziamento e un'altra cosa che abbiamo capito quando siamo arrivati al governo è che in alcuni casi fonti di finanziamento che erano diverse si sovrapponevano o non lavoravano creando una strategia che avesse un senso è la ragione per la quale io ho scelto di dare la competenza sia dei fondi di sviluppo e coesione sia del PNRR allo stesso ministro perché mentre noi facevamo questo lavoro di riorganizzazione dei fondi di coesione facevamo anche il lavoro di revisione del piano nazionale di ripresa e resilienza per essere certi che le risorse fossero spalmate nel migliore dei modi e che nessuno e niente rimanesse diciamo così indietro e definanziato anche sul PNRR consentitemi di fare diciamo una piccola digressione poi vedremo presidente che cosa nel lavoro futuro si potrà fare di più anche per la Calabria però obiettivamente io ricordo tutti gli allarmi sono stati lanciati sul PNRR governo Meloni non si spenderanno le risorse governo Meloni ci faranno perdere le risorse la revisione del PNRR siete matti perderemo tutte le risorse le cose sono andate un po' diversamente le cose sono andate che nel 2023 l'Italia ha terminato tutti gli obiettivi della terza rata che erano quelli diciamo così che noi ereditavamo alcuni avevano dei problemi ottenuto il pagamento della terza rata presentato gli obiettivi della quarta rata ottenuto il pagamento della quarta rata presentato gli obiettivi della quinta rata siamo la prima nazione in Europa ad aver presentato tutti gli obiettivi della quinta rata e mentre facevamo questo lavoro rinegoziavamo il PNRR anche qui perché rinegoziare il PNRR perché il precedente piano era stato scritto in un contesto diverso e quindi era stato scritto in un contesto che non poteva tenere in considerazione alcune emergenze che noi oggi abbiamo che sono ad esempio figlie del conflitto in Ucraina e quindi bisognava aggiornarlo anche qui se ne è fatta una questione ideologica ma abbiamo dimostrato che si poteva fare non solo che lo stanno facendo quasi tutte le nazioni europee e che nel farlo potevamo dare risposte più cogenti ai problemi che abbiamo oggi abbiamo liberato 21 miliardi di euro di risorse che abbiamo potuto spendere per alcune che possiamo spendere per alcune priorità che secondo noi sono tali tipo il sostegno al sistema produttivo ci sono 12 miliardi e mezzo di euro nuovi per gli incentivi alle imprese di cui oltre 6 su transizione 6.0 ci sono le risorse per gli agricoltori perché questo governo non ha avuto bisogno di vedere i trattori in piazza per accorgersi che il mondo agricolo è in difficoltà lo sapevamo ci abbiamo lavorato dall'inizio abbiamo portato le risorse per l'agricoltura tra contratti di filiera e agricoltaico da 5 a 8 miliardi di euro nella revisione del PNRR abbiamo lavorato sull'efficientamento energetico delle piccole e medie imprese abbiamo messo nuovi soldi sulla sanità per quasi un miliardo di euro abbiamo fatto un lavoro che secondo noi era molto importante fare ed è un lavoro ripeto che diciamo risponde complessivamente ad una strategia è un lavoro per il quale io devo ringraziare i presidenti delle regioni quello che riguarda particolarmente i fondi di sviluppo e coesione perché come diceva correttamente il presidente Occhiuto tutti hanno capito il senso di quello che stiamo facendo e c'è stata e c'è una enorme collaborazione noi abbiamo già firmato questo è il decimo accordo di coesione che firmiamo ne sono già pronti altri sette sei se non vado errata e gli altri stanno diciamo lavorando poi ciascuno ha le sue difficoltà ma tutti sono collaborativi salvo diciamo uno che non è molto collaborativo allo stato attuale ma insomma voglio dire rispetto per carità insomma non neanche mi stupisce troppo se si va a guardare il ciclo di programmazione 2014-2020 risulta speso il 24% della spesa dei fondi necessari forse se invece di fare le manifestazioni ci si mettesse a lavorare si potrebbe ottenere qualche risultato in più ma questa è un'altra questione dopodiché la Calabria dicevamo è la decima regione che firma questo accordo è la prima che firma questo accordo nel mezzogiorno d'Italia noi con questo accordo lo diceva il Presidente Occhiuto mettiamo a disposizione di questo territorio 2 miliardi 863 milioni di euro però se a queste risorse aggiungiamo quelle che sono state rese disponibili da altre fonti di finanziamento che sono circa 257 milioni arriviamo qui con un investimento complessivo di 3 miliardi di euro in queste risorse rientrano per essere precisi i 142 milioni di euro che sono stati già assegnati come anticipano nel 2021 e rientrano i 440 milioni di euro che abbiamo attribuito con una legge apposita alla regione Calabria per combattere il rischio idrogeologico queste risorse serviranno a finanziare complessivamente 317 progetti per questo territorio però questi 317 progetti sono concentrati su poche priorità proprio per rispondere al concetto diciamo all'idea di strategia che citavo prima la priorità delle priorità che noi finanziamo con questo accordo di sviluppo sono le infrastrutture sulle infrastrutture complessivamente questo accordo alle infrastrutture complessivamente questo accordo dedica oltre un miliardo di euro parliamo di infrastrutture viarie parliamo di trasporto pubblico parliamo di porti poi tornerò sul tema dei porti ci sono i 300 milioni di euro destinati per legge alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina quello che molti insomma amano definire il ponte che non si farà mai è impossibile fare il ponte sullo stretto di Messina io sono convinta che è impossibile sia la parola che usano quelli che non hanno coraggio che non hanno voglia di lavorare perché per quelli che hanno coraggio e hanno voglia di lavorare le cose si fanno e io penso che la sfida delle infrastrutture sono venuta qua tante volte quando ero all'opposizione eccetera e mi piace dimostrare che le cose che ho detto quando ero all'opposizione insomma non sono cambiate quando sono al governo ogni volta che mi sono trovata nel mezzogiorno d'Italia io ho sempre parlato di infrastrutture se vogliamo di infrastrutture di cittadinanza qualche volta abbiamo giocato su questo termine perché vedete ci si lamenta del divario del sud però io sono molto d'accordo con il Presidente Occhiuto c'è un solo modo per combattere il divario nel mezzogiorno d'Italia ed è costruire le precondizioni per consentire a queste regioni di competere ad armi pari e qui c'è diciamo una differenza di fondo nel modello nella visione se vogliamo politica leggevo stamattina un'intervista del leader dell'opposizione grande rispetto perché io sono stata all'opposizione per tanti anni che diceva no i patrioti abbandonano il mezzogiorno il riferimento a me tradiscono il mezzogiorno io penso che ci siano due modi per affrontare il divario il mezzogiorno cioè il reddito di cittadinanza ci sono le infrastrutture di cittadinanza il reddito di cittadinanza era secondo me la risposta che dava chi considerava questi territori non recuperabili chi considerava il destino di questi territori ineluttabile e chi diceva ai cittadini di questi territori guarda io non posso migliorare la tua condizione io non posso fare nulla per il tuo sviluppo e dico di più io non ho bisogno del tuo contributo e quindi quello che posso fare è mantenerti nella tua condizione di povertà non è la mia visione di quello che è il potenziale di questi territori cioè a chi mi accusa di dividere l'Italia vorrei dire che l'Italia è stata divisa ed è stata divisa da chi credeva che ci fossero cittadini di serie A e cittadini di serie B cittadini sui quali valesse la pena investire perché avrebbero potuto dare un moltiplicatore e cittadini sui quali invece era inutile investire che dovevano essere mantenuti nella loro condizione di marginalità non è la mia lettura io credo che la sfida di questi territori sia consentire alle regioni del mezzogiorno di dimostrare quello che valgono banalmente avendo le stesse identiche condizioni che sono state concesse ad altri cittadini in altre regioni e questo si fa con l'investimento sulle infrastrutture secondo me questo si fa con l'investimento sulle infrastrutture e proprio perché mi considero una patriota voglio colmare un divario che purtroppo c'è e voglio colmarlo con le risposte che sono meno facili che sono quelle che possono dare davvero risultati ma sono sicuramente meno facili da realizzare perché le risposte facili le abbiamo già viste messe in campo e non hanno molto funzionato allora ci sono dei gioielli qui lo diceva bene il presidente occhiuto ci sono dei potenziali che però senza infrastrutture non vanno a nessuna parte porto di gioia tauro non è un caso che noi oggi siamo venuti al porto di gioia tauro per carità il porto di gioia tauro è un gioiello è una delle maggiori infrastrutture nel Mediterraneo è il nono porto europeo è il primo porto italiano per traffico merci è il nono porto europeo per traffico merci bene noi siamo una piattaforma in mezzo al Mediterraneo noi siamo la piattaforma proprio in mezzo a quel mare che è il punto di contatto tra i due grandi diciamo ambiti globali di commercio marittimo che sono l'Indo Pacifico e l'Atlantico noi siamo in mezzo con un porto che sta praticamente sulla punta di questa piattaforma secondo voi il nono porto per traffico merci in Europa è l'obiettivo massimo al quale possiamo ambire ve lo dico io no no perché tutti quanti sappiamo che ci sono merci che arrivano dall'est del mondo e che vengono trasportate via mare circunnavigando l'Europa nei porti di Rotterdam o di Amsterdam banalmente perché noi non abbiamo le infrastrutture interne per garantire che quando le merci arrivano da noi riescono velocemente a raggiungere i mercati che devono raggiungere e quindi sì il tema delle infrastrutture nonostante gli sforzi che noi abbiamo fatto e che stiamo facendo per far funzionare il porto ci sono delle risorse ovviamente nel fondo di sviluppo e coesione se noi non lavoriamo su quello che poi accade appena dietro non raggiunge le sue potenzialità e allora questa è secondo me la strategia che noi dobbiamo mettere in campo e che guardate riguarda un'altra grande infrastruttura che noi abbiamo e che non abbiamo fin qui adeguatamente valorizzato che è il mare il mare con gli 8 mila chilometri di coste che ci sono in Italia con la collocazione geostrategica che l'Italia ha con il mar Mediterraneo il rapporto con l'Africa sul quale appunto torno su quello che diceva il presidente Occhiuto non a caso l'Italia si sta proiettando guardate l'Africa viene raccontata come un continente povero ma l'Africa non è un continente povero l'Africa detiene oggi il 60% delle risorse minerarie strategiche 60% di terre arabili cioè è un continente potenzialmente ricchissimo oggi per lo più sfruttato e mentre qualcuno depreda le risorse che ci sono in Africa noi siamo quelli che ne pagano le conseguenze tra instabilità flussi migratori e tutto quello che conosciamo la scelta di questo governo di tornare a rendere l'Italia centrale sul Mediterraneo e centrale nei rapporti con l'Africa certo attraendo anche altre risorse non ho la presunzione diciamo come nazione italiana di risolvere il problema di un intero continente che ha più di un miliardo di abitanti ho la presunzione però di fare una cosa che l'Italia non ha avuto spesso il coraggio di fare e cioè essere pioniere in alcune scelte strategiche e tirarsi dietro gli altri mentre noi spesso abbiamo preferito guardare che cosa facevano gli altri e poi inseguirli io penso che noi possiamo essere protagonisti di stagioni nuove di strategie dei quali siamo capofila oggi tutti stanno comprendendo il valore che l'Africa può avere per noi particolarmente su un'altra questione che riguarda e coinvolge soprattutto il mezzogiorno d'Italia perché poi se si va a guardare questi che vorrebbero diciamo così dividere l'Italia in realtà tutte le grandi strategie che noi stiamo individuando passano da qui compreso il tema del rapporto con l'Africa perché qual è la grande sfida che noi ci siamo dati con il piano Mattei e quant'altro fare dell'Italia l'hub di approvvigionamento energetico d'Europa cioè mettere insieme due interessi l'interesse dell'Africa a crescere prosperare e vivere delle risorse delle quali dispone l'Africa è potenzialmente un enorme produttore di energia di energia verde soprattutto e la difficoltà che invece oggi soprattutto l'Europa del Nord ha nell'approvvigionamento energetico per cui se noi investiamo in Africa seriamente non noi solamente italiani no ma noi europei investiamo nella produzione di energia anche in Africa fermo restando che il Mezzogiorno d'Italia per la produzione diciamo di tutto quello che riguarda rinnovabile e ricazzificatore anche tutto il discorso che hai fatto sono molto d'accordo è chiaramente un potenziale enorme ma da soli non possiamo risolvere tutto il bisogno che c'è se noi riusciamo a fare quegli investimenti a portare l'Europa a fare quegli investimenti in Africa produciamo quell'energia e costruiamo come stiamo facendo le adeguate infrastrutture di collegamento sapete che cosa accade che il Mezzogiorno d'Italia che è la porta d'ingresso di quell'energia e la porta di transito di quella energia assume una centralità strategica che porta ogni risposta possibile per cui c'è un disegno in quello che stiamo facendo c'è un disegno in quello che abbiamo fatto istituendo un ministero del mare avviando una piano strategico del mare cioè mettendo a regime tutti i ministeri che hanno una competenza su questa grande infrastruttura e su questo grande volano di ricchezza che da noi è rappresentato dal mare nel presente e nel futuro non vuol dire solo pesca non vuol dire solamente chiaramente tutta la nautica che è un'assoluta eccellenza italiana significa anche qui e perdonatemi se parlo di strategie che possono sembrare diciamo avveniristiche ma non lo sono perché il problema di questa nazione è che non ha avuto una strategia ma per esempio oggi e nel futuro mentre tutti sono concentrati con gli occhi in alto a guardare a contendersi il dominio dello spazio dove la concorrenza è sicuramente una concorrenza accesa e l'Italia ci deve essere comunico che quasi nessuno sta guardando in basso verso un altro dominio strategico fondamentale del futuro che sono i fondali marini e le grandi enormi risorse che possono arrivare dai fondali marini lì non c'è nessuno ad oggi che compete con l'Italia è un'altra nostra prerogativa è qualcosa su cui dobbiamo mettere la testa e ripeto sì potrei venire qui semplicemente a raccontare quanti risorsi abbiamo messo sui redditi sui salari ma mi piace parlare di strategia perché è quello che è mancato qui quello che è mancato qui è credere in un potenziale che è dato dalla operosità dal coraggio e dalla forza dei cittadini di questi territori dalla capacità di mettere quell'operosità quella forza e quella competenza in condizioni di competere ad armi pari e da una strategia che veniva data dal governo nazionale condivisa con i territori sulla quale tutti quanti lavoriamo allora noi abbiamo individuato la strategia stiamo mettendo le risorse su quella strategia lo dimostra il fondo di sviluppo e coesione ma non è l'unico strumento con cui lo faremo lo facciamo anche con il PNRR ci sono altre fonti di finanziamento le stiamo rivedendo tutte Presidente quindi altre risorse altre sfide arriveranno dopodiché nel fondo di sviluppo e coesione ci sono risorse molto importanti per altre questioni che pure sono centrali la tutela dei beni culturali perché anche qui insomma c'è anche no su altri ambiti che sono propri dell'Italia il tema dei beni culturali del turismo tutto quello che ne deriva in termini di posti di lavoro ci sono le risorse per il termo valorizzatore qui a Gioia Tauro cofinanziata tra risorse pubbliche e risorse private per vincere un'altra grande sfida che è quella della gestione dei rifiuti sulla quale la regione sta facendo un lavoro straordinario ci sono milioni e milioni di euro di sostegno al sistema produttivo cioè alle aziende che qui decidono di creare lavoro e ricchezza e qui arriva un'altra risposta che è stata diciamo sottovalutata dalla grande stampa insomma da molti secondo me poi piano piano che si capirà qual è il valore aggiunto che porta l'attenzione aumenterà ma noi siamo riusciti in una cosa nella quale non ha riuscito nessun governo prima di noi che è la zona economica speciale unica del mezzogiorno noi siamo stati abituati ad avere delle piccole zone economiche speciali che non hanno funzionato come potevano funzionare la sfida che ha affrontato il governo e che ha vinto ottenendo il via libera dalla commissione europea e che tutte le regioni del sud diventano un'unica zona economica speciale che vuol dire essere un'unica zona economica speciale significa visto che il presidente Occhiuto diceva bisogna attrarre nuovi investimenti significa che tutti i nuovi investimenti che arrivano qui nelle regioni del mezzogiorno indipendentemente da dove vanno possono vantare degli incentivi molto importanti e delle semplificazioni amministrative estremamente significative vuol dire colmare così dando diciamo un vantaggio nell'investire in questi territori i problemi che abbiamo ereditato e quindi creare quell'uguaglianza che è il presupposto del merito cioè mettere tutti nella stessa condizione di competere e poi chi è più bravo andrà più avanti e questo mi porta all'ultimo tema e davvero chiudo che riguarda la questione dell'autonomia differenziata perché anche su questo guardate io ho sentito dire un po' di tutto ma figuratevi insomma se una persona come me che diciamo no ecco sul tema dell'amore per l'Italia crede di aver insomma dato qualche segnale può immaginare di dividere la nazione allora sul tema dell'autonomia differenziata io voglio dire due cose per spiegare la razio del provvedimento che tanto diciamo viene giustamente dibattuto lo capisco bene la prima il presupposto per la definizione dell'autonomia differenziata per la realizzazione dell'autonomia differenziata è l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sapete che significa? significa che per la prima volta in Italia qualcuno stabilirà quali sono i servizi essenziali che tu devi dare ai cittadini in ogni regione d'Italia in ogni territorio d'Italia perché vi comunico ufficialmente che in molti di questi territori quei livelli non sono stati garantiti e garantire e definire quei livelli impone di garantire quei livelli anche a quei cittadini a cui quei livelli non erano stati garantiti secondo elemento dell'autonomia differenziata l'autonomia differenziata non funziona come qualcuno racconta tolgo a una regione e do a un'altra l'autonomia differenziata prevede una cosa più semplice cioè dove io ho un'amministrazione regionale virtuosa cioè che spende bene le sue risorse che lavora bene che mi dà un moltiplicatore alto lo Stato valuta di devolvere altre risorse quindi non è un tema di devolvere altre competenze chiedo scusa non è un tema di rapporto tra una regione e l'altra è un tema di rapporto tra lo Stato e la regione e quindi non è un divario che si crea tra il nord e il sud è semmai un divario che si crea tra le amministrazioni capaci e quelle che capaci non sono state e non mi stupisce che faccia paura a qualcuno e particolarmente a quelli diciamo che hanno degli indicatori più bassi ma è un elemento di responsabilizzazione che può fare anche la forza di questi territori perché quando le risposte arrivano indipendentemente dal territorio io posso avere solo l'interesse di rafforzare quel territorio perché possa crescere meglio per cui non c'è affatto diciamo un tentativo di indebolire qui c'è un tentativo di rafforzare c'è un tentativo di rafforzare consapevoli di quello che è l'enorme potenziale del Mezzogiorno d'Italia della sua gente questo territorio agendo su alcune leve bisogna avere una strategia bisogna avere delle risorse bisogna che quelle risorse arrivino a terra bisogna che chi gestisce quelle risorse sia responsabilizzato per spenderle al meglio con questi quattro elementi io penso che i cittadini che vivono in queste regioni non devono avere paura di niente perché hanno affrontato di tutto compreso l'andrangheta e la criminalità organizzata e possono tranquillamente e devono poter contare sulla sfida della responsabilità e noi combatteremo l'andrangheta così dimostrando che lo Stato quando ti dà qualcosa non ti chiede in cambio la tua libertà come fa invece la criminalità organizzata ma lo Stato deve esserci e deve esserci con risposte serie e efficaci e sono quelle che stiamo tentando di costruire grazie a tutti della regione a raggiungere il presidente del consiglio per la sottoscrizione grazie a tutti grazie 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 hanno sottoscritto l'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo italiano e la regione Calabria per il governo il presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni per la regione Calabria il presidente Roberto Occhiuto grazie grazie